Qual è il colore che meglio rappresenta la società moderna volta alla sostenibilità? Non ditemelo una domanda retorica. È il verde. Scommetto che molti di voi stanno pensando appunto al verde, che è il colore che ci connette maggiormente alla natura. L'ecosistema naturale offre una variegata tavolozza di colori, in cui emerge appunto il verde in tutte le sue sfumature. Il colore verde è anche quello che sentiamo sfruttare più spesso quando si parla di azioni sostenibili, in effetti. Pensate alle politiche verdi. Qualcuno le chiama politiche green. Sicuramente avete letto di queste sui giornali o ne avete sentito parlare. Si potrebbero citare le azioni intraprese dall'Unione Europea che riguardano gli Stati membri. Ad esempio, in uno degli ultimi consigli europei si è stabilito un nuovo obiettivo, l'ottenimento di un'Unione Europea a impatto climatico zero entro il 2050. Qual è il motore che spinge questi accordi? È sempre una domanda retorica. In linea generale il contrasto al cambiamento climatico, anche se più correttamente dovremmo parlare di contrasto al riscaldamento globale. Da diversi decenni le comunità scientifiche hanno lanciato l'allarme rispetto al cambiamento del clima del pianeta, in cui le fonti non rinnovabili sono la principale causa. Queste infatti immettono in atmosfera un'enorme quantità di unidride carbonica che va poi a sommarsi all'effetto serra provocando un inevitabile e insostenibile talvolta in alzamento delle temperature. A livello globale ci sono delle cause, siccità, inondazioni, dissesto idrogeologico, diffusione di malattie per fare qualche esempio. Pensate che nel 2021 sono state emesse in atmosfera più di 36 miliardi di tonnellate di CO2, facendoci fare un passo indietro rispetto ai progressi che si stavano facendo e rispetto anche a quello che si è dimostrato essere il blocco delle emissioni durante la crisi pandemica. Il settore energia, secondo l'ISPI, che è l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, è responsabile delle emissioni di unidride carbonica in atmosfera per il 73%. Il settore energia comprende varie voci, fra queste quelle che hanno il peso più significativo sono il consumo energetico industriale, il settore dei trasporti e il consumo energetico degli edifici. Sul piano locale questo innalzamento delle temperature provoca un altro fenomeno di cui non si parla abbastanza, talvolta è anche sconosciuto, il fenomeno dell'isola di calore. Studiare l'isola di calore significa valutare il comfort degli abitanti e valutare anche il consumo energetico degli edifici. Quando studiamo il fenomeno dell'isola di calore dobbiamo analizzare l'ambiente urbano e capirne le sue caratteristiche, nello specifico, in linea generale, possiamo dire l'eccessivo consumo di suolo che si declina in pavimentazioni impermeabili, mancanza di vegetazione e geometria delle città. Capiamo per punti di cosa stiamo parlando. Pensate alle nostre strade, nere per via dell'asfalto e sicuramente impermeabili. Queste sono poco riflettenti nei confronti della radiazione solare, ma al contrario hanno un'elevata capacità termica. Sapete che cos'è? È quella caratteristica per cui ci sono alcuni materiali che hanno la tendenza ad assorbire grandi quantità di calore che poi rilasciano nell'ambiente in momenti successivi. L'infrastruttura urbana, banalmente la forma dei palazzi, che riflette e assorbe il calore durante le ore del giorno, sommata alla caratteristica delle strade, crea una vera e propria trappola per il calore, generando un altro fenomeno di cui si parla poco ma che è in costante aumento in tutta Italia, il fenomeno delle notti tropicali. Sono quelle notti in cui la temperatura non scende mai sotto i 20 gradi centigradi. Sono sicura che quest'estate qualcuno di voi ne ha avuto sentore. Pensate che l'anno scorso, nel 2021, nella ricerca sul clima dell'ISPRA, sono state 82 consecutive a Cagliari. Facciamo un passo indietro e torniamo all'isola di calore. Ancora, pensate, è dimostrato che un viale alberato, a differenza di uno senza alberature, riesce a far avere al suolo una temperatura inferiore tra i 4 e i 10 gradi. La mancanza di vegetazione è una caratteristica che le grandi città hanno in comune, perché man mano che l'urbanizzazione aumenta si sacrifica al verde pubblico, che è una cosa sbagliata perché è la vegetazione che regola il microclima. Esistono varie tecnologie, varie soluzioni innovative per mitigare il fenomeno dell'isola di calore. Abbiamo scelto di concentrarci sui giardini verticali. I giardini verticali sono in grado di ridurre gli impatti negativi dell'urbanizzazione e di creare modelli che sono soprattutto replicabili e sostenibili dal punto di vista ambientale. Il muro vegetale, o più correttamente mur vegetal, ideato dal botanico e ricercatore francese Patrick Blanc, ha posto le basi per un cambiamento nella progettazione architettonica che vede uno stretto connubio con la natura. Le specie vegetali reperibili appunto in natura rispondono a determinate esigenze progettuali che possiamo elencare in esigenze estetiche, funzionali e bioclimatiche. Pensate a una facciata di un edificio. Quando è esposta durante i mesi caldi al sole può raggiungere una temperatura fino ai 50 gradi. Al contrario, in inverno quella stessa facciata può essere investita da venti freddi oppure dalle precipitazioni. Attraverso il giardino verticale è possibile smorzare queste alte e basse temperature, producendo tutta una serie di benefici in più. Sicuramente la regolazione termica interna agli edifici. Infatti grazie alla presenza della struttura è possibile mantenere una temperatura quasi costante all'interno degli ambienti. Migliorare la qualità dell'aria. Le specie vegetali messe a dimora su parete sono in grado di assorbire e metabolizzare le polveri sottili, pensate ai particolati come i PM10. Benefici psicofisici. Esistono ricerche in psicologia che dimostrano che la semplice percezione del verde provoca beneficio nell'osservatore. Ancora, riduzione dell'inquinamento sonoro o acustico. Pensate a quei quartieri, magari poco vegetati, in cui c'è la presenza di molto traffico, il rumore delle auto, il rumore dei mezzi pubblici. Si ripercuote inevitabilmente sulla vita di cittadine e cittadini. Attraverso il giardino verticale è possibile assorbire quel rumore, ridurlo e ridurre il riverbero. Sono ad ammirare alcuni nuclei urbani che hanno messo in atto una vera e propria trasformazione in cui la vegetazione occupa una posizione centrale e fondamentale e fra questi sicuramente Berlino, fin dal 1980, ha attuato una serie di strategie atti a contenere l'impatto negativo rispetto al consumo di suolo, l'abbattimento degli inquinanti e altri aspetti. In Italia abbiamo molti esempi di giardini verticali. Vi cito uno che ci è piaciuto particolarmente, un giardino verticale messo a dimora sulla parete di un centro commerciale a Rozzano in provincia di Milano. È grande circa 1250 metri quadri ed è quello stesso giardino che contribuisce al bilanciamento termico dell'edificio. Anche la ricerca si muove verso la mappatura delle isole di calore, quindi iniziamo ad individuarle attraverso il satellite. Lo sta facendo Sassari, lo hanno fatto l'Università di Trento e Bologna, alcune anche promuovendo nelle loro ricerche alcune soluzioni, tutte comunque che vedono la vegetazione come componente fondamentale. Vorrei mostrarvi alcune immagini che vogliono solo dare una suggestione, vogliono solo aiutarvi a immaginare come possono cambiare le città se adottassero in modo diffuso i giardini verticali. Con il mio amico e collega Luca, tempo fa abbiamo deciso di unire le nostre competenze e di pensare un prototipo di verde verticale che fosse completamente naturale. Dopo più di un anno di studi abbiamo ideato un prototipo, lo abbiamo costruito, realizzato, facile da assemblare e mettere in opera e ne abbiamo brevettato il modello disegno. Questo è il prototipo. La foto è un po' strecciata. È su parete da circa due anni e ne studiamo costantemente il comportamento, sia per quanto riguarda la tenuta della struttura portante, sia per quanto riguarda la messa a dimora delle specie vegetali. Io sono un architetto del paesaggio, lui è un ingegnere, nessuno è un agronomo, quindi dobbiamo capirci qualcosa. Misura circa 80 centimetri di altezza per un metro e mezzo di larghezza ed è posto a una piccola distanza da quella che chiamiamo parete ospitante. La camera d'aria che viene così a generarsi unitamente alla geometria del nostro prototipo è in grado di mantenersi costantemente asciutta e ventilata. Quando verrà posto su parete insieme agli altri moduli e andrà a disegnare il giardino verticale complessivo, comprenderà anche un circuito di fertirrigazione chiuso con una cisterna posta a quote basse. Questa cisterna verrà sovradimensionata rispetto alla superficie della parete. Perché? Perché grazie ai giardini verticali è possibile recuperare l'acqua che cade su parete, quindi noi la convogliamo e la sfruttiamo, la riutilizziamo. Abbiamo deciso di chiamarlo Verdales. Alcuni di voi hanno già sorriso. Sono due le ragioni che ci hanno spinto in questa direzione. La prima è porre l'accento sulla parola verde, sul colore verde, che deve diventare parola simbolo del futuro delle città. La seconda è per richiamare l'attenzione su una tradizione che in Sardegna prende avvio a partire dagli anni 70 del 900, la tradizione dei murales. Numerosi, infatti, sono i centri dell'isola che si arricchiscono grazie ad opere diffuse di artisti locali e internazionali e alcune periferie e di alcune città vengono rigenerate artisticamente. Con Verdales abbiamo l'obiettivo di inserirci in questa tradizione, con una piccolissima differenza. Le pennellate sono sostituita dalla cromatura del fogliame e delle fioriture. Per concludere, le principali caratteristiche di Verdales e più in generale dei giardini verticali sono la regolazione termica, la depurazione dell'aria, l'abbattimento acustico e degli inquinanti, l'ostacolo alla diffusione del fuoco, la valorizzazione degli edifici e, ultimo ma non ultimo per via dell'importanza che ha, l'incremento della biodiversità, un aspetto che si sottovaluta fin troppo all'interno dei centri urbani. Le città sono chiamate ad agire ora, a migliorare la qualità della vita di cittadine e cittadini, a creare attrattività grazie ai giardini verticali, a creare lavoro, a mitigare il fenomeno dell'isola di calore. Grazie. Grazie.